Vorrebbe dire così, a parte il fatto che abbiamo il comandamento di aspettare il Mashiach in ogni giorno che arrivi, e specificamente in questo periodo che già sappiamo, sono esaurite tutte le ultime date, sono già scadute, e il Mashiach già deve arrivare, e abbiamo già concluso tutto quello che noi dobbiamo fare per servire Dio, come abbiamo parlato diverse volte, e ci troviamo in un anno in cui le iniziali di quest'anno sono che Dio ci mostra dei miracoli, come dice il versetto, come i giorni che siete usciti dall'Egitto, vi farò vedere i miracoli, sarebbe dire che questo versetto scrivisce la redenzione messianica, che come avete visto i miracoli quando siete usciti dall'Egitto, vedrete i stessi miracoli con la redenzione messianica. Il Rebbe dice, abbiamo già visto concretamente diversi miracoli riguardo la redenzione dei particolari, sapete, ognuno ha la sua redenzione privata e poi c'è la redenzione globale. Allora, abbiamo visto diversi miracoli riguardo la redenzione privata, e sia riguardo la redenzione generale, specificamente riguardo ai nostri fratelli ebrei che si trovavano in quel paese, Rebbe intende la Russia, che in quel periodo lì gli ebrei hanno avuto la libertà, la possibilità di uscire dalla Russia, oppure di vivere il loro ebreismo nella Russia, che era una cosa che era vietata fino allora, che molti di loro sono usciti da quel posto che era molto oppressivo e sono andati in posti che si può osservare vivere l'ebreismo in maniera più tranquilla e in maniera che possono vivere una vita comoda sia materialmente sia spiritualmente, di osservare a trovare a fare tutte le mitzvot. Fino a che in questi ultimi giorni c'è stato il raduno degli emissari di Khabal nella Russia, in quel paese, proprio nella città di Lubavitch, che tutto il movimento Lubavitch è nato in Russia, in Ucraina, in una città che si chiama Lubavitch, e l'alterebbe, l'autore del Tania, è nato nella città di Liadi, scusa, sì, di Liadi, Eliosna, Rostov, Petrburg, tutte città in cui il movimento Khabal in diversi periodi hanno avuto dei ruoli importanti in questa città nella storia del movimento Khabal. che in questa città, dice il Rebbe, hanno vissuto i presidenti di Khabal per diverse generazioni, e lì si sono radunati tutti i shluchim del presidente di Khabal, della nostra generazione, che il mio suoccio Rebbe, nella capitale di quella città, Moskova, perché, per raggiungere ancora di più, ancora più forza nella disseminazione dell'ebraismo e della chassidut, Khabal fuori, fino al posto più remoto e più lontano, che così arriva Mashiach, perché c'è la famosa storia che il Barcento ha raccontato, che una volta è salito su, in Ganede, nella camera di Mashiach, ha chiesto a Mashiach, quando arrivi? Mashiach le ha risposto, quando i tuoi insegnamenti saranno sparsi nei posti più remoti, allora le tue sorgenti arriveranno nei posti più remoti, allora arrivo. Ora, in questo anno stesso, stiamo già nel capo mese di Elul, che è il capo mese di Elul, nel mese che ognuno fa il resoconto di tutto l'anno, il resoconto di tutto l'anno, dice Rebbe, qual è il totale resoconto di tutto l'anno? Ad Matai, fino a quando dobbiamo aspettare in esilio, vogliamo Mashiach adesso? E il Rebbe dice, com'è possibile che dopo undici mesi, dell'anno che abbiamo visto miracoli, Mashiach Zilkeino ancora non è venuto? Una grande domanda! In concreto, Rebbe dice, cosa dobbiamo fare in concreto per velocizzare e riportare Mashiach? Dobbiamo pubblicizzare e risvegliare in ogni posto, in ogni luogo, riguardo al compito speciale che abbiamo nel mese di Elul, che il mese di Elul include in sé l'acronimo di Tefilah, Gmach, Gminut Chassadim, aiutare il prossimo, Tefilah, preghiera, Gminut Chassadim, aiutare il prossimo, Teshuva, ritorno a Dio, e Geulah, la redenzione. E specialmente, sottolineando il quinto concetto, l'acronimo della redenzione, come che questo concetto della redenzione penetra in ogni cosa della nostra vita quotidiana, fino a che ogni cosa che noi facciamo è permeato da questo spirito della redenzione. E questo include anche studiare la Torah. Studiare la Torah nel concetto della redenzione, nel concetto del santuario, per capire come sarà il santuario, cosa succederà quando arriverà Mashiach, come identificare Mashiach, chi può essere Mashiach, chi non può essere, tutte queste cose qui, che sono spiegate nella Torah, nella Chà, nei profetti, nella Gmarà, nel Talmud, sono cose che vanno studiate per vivere la Geulah, per vivere la realtà che si sta avverando davanti ai nostri occhi. E studiare queste cose non come una cosa remota e distante, come noi studiamo degli azzechi, che non ci interessa molto. No, studiare queste cose con una voglia, con un'attesa, con una certezza completa, che subito vedremo Mashiach con i nostri occhi di carne, diremo, ecco questo, il re Mashiach è arrivato. E il Rebbe dice semplicemente, bisogna annunciare e pubblicizzare in ogni posto, con parole che escono dal profondo nostro cuore, che Dio dice tramite i Suoi profeti. Ad ogni ebreo, guardate, io vi do oggi una benedizione, fino a che oggi proprio vediamo con i nostri occhi materiali di carne, la benedizione della redenzione vera e completa. E il Rebbe continua dicendo, bisogna sottolineare che questo annuncio e questa cosa da pubblicare deve essere fatto, noi dobbiamo pubblicizzare questo, anche se ancora non abbiamo capito questo concetto. perché uno dice, ma io ho questo concetto qui, che è la redenzione, che arriva adesso, e che sono certo e sicuro, non sono ancora arrivato a questo livello. Come faccio ad andare a pubblicizzare queste altre persone? Allora il Rebbe dice, no, anche quelli che ancora non hanno compreso, afferrato profondamente, con il loro intelletto, con la loro comprensione, questo concetto, anche queste persone hanno la fede in maniera completa e dunque possono e dunque devono pubblicizzare queste cose a altre persone, incominciando prima di tutto dai nostri familiari, che sicuramente loro non devono soffrire dal fatto che io non ho ancora compreso la cosa, il fatto che io non ho ancora compreso la cosa non vuol dire che i miei familiari devono soffrire, io devo andare a pubblicizzare questo ai miei familiari. e poi non sono i miei familiari, ma anche a tutti quelli che mi stanno attorno, ognuno e ognuna di Israele, e sicuramente che tramite che noi facciamo i nostri sforzi giusti, allora le cose verranno accettate e avranno il loro effetto, incluso anche sulla persona che pubblicizza. Il fatto che io vado in giro a pubblicizzare, guardate che Mashiach sta arrivando, guardate che l'avvenuto di Mashiach, anche se io ancora non ho compreso questo al 100%, però questo avrà effetto, non solo su persone che mi sentono, ma anche su di me. E per cui mi aiuterà a interiorizzare questa cosa, comprendere in maniera più profonda. Per cui non devo aspettare finché io lo sono perfetto e fare soffrire gli altri nel frattempo, ma incominciare a insegnare e condividere questa profezia del Rebbe, che Mashiach sta arrivando già adesso, così che tutti quanti possano prepararsi e così che anch'io potrò interiorizzare questo concetto.